buona sera e benvenuti a prisma tutte le facce della cronaca prisma che cambia formula vero andrea tremo compagnia per un'ora quindi insomma ci concentriamo su degli argomenti molto importanti avvenute in questa settimana ovviamente insomma ne discutiamo in studio e con i nostri ospiti collegati apriamo subito con il primo caso che veramente ha scosso un po le anime di tutti quanti e riguarda il bambino neonato morto al pertini all'ospedale pertini siamo praticamente a roma all'interno del non so come dove si è consumata purtroppo la tragedia un bambino nato da pochissimi giorni dopo tre giorni la cattiva notizia per la famiglia una vera e propria tragedia con il bambino appunto protagonista del dell'infasta situazione che si era addormentata tra le braccia della madre madre anche si era addormentata e purtroppo avrebbe dormito insieme al figlio per l'appunto per poi soffocarlo su se stessa insomma una tragedia su cui gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza tantissime le testimonianze in merito per cercare di capire come sono andate le cose ma soprattutto si è aperto anche un dibattito in merito perché circola tantissimo circola tantissimi termini come il co-sleeping oppure il rooming in tantissime le situazioni da analizzare anche in merito perché poi si è scatenata anche la volontà appunto di tutela verso le mamme visto che poi sono state tantissime le testimonianze da parte di altre persone che hanno sottolineato come a volte sulle dopo il parto siano anche costrette a dover dormire con i propri bambini appena nati naturalmente. Andremo ad analizzare anche la categoria degli infermieri stessi per l'appunto come sta vivendo il momento soprattutto anche i diretti protagonisti ma cercare di capire anche la situazione in merito alla categoria stessa e lo facciamo in compagnia qui in studio di Mauro Valentini giornalista buonasera Mauro. Grazie Mauro per essere qui con noi anche oggi. Grazie a voi. E in collegamento Skype abbiamo il segretario del sindacato Nursind Roma Stefano Barone buonasera Buonasera a voi e grazie. Buonasera. Allora io inizierei col dire che è una situazione molto delicata perché riguarda tantissimi aspetti quello materno insomma la nascita appunto del neonato voi che avete a che fare quotidianamente con questa storia Stefano quando è successo l'episodio insomma qual è stata subito la prima vostra reazione? Al di là della nostra solidarietà e vicinanza alla famiglia per il dramma che ha subito e quindi va al di là di ogni ruolo e ogni posizione che si possono pensare di prendere c'è un discorso molto più articolato perché la garanzia delle cure che devono essere che devono avvenire all'interno di una struttura ospedaliera devono essere certe. Per essere certe c'è bisogno di una serie di risorse necessarie per dare il massimo di quello che possono dare appunto i professionisti in merito al percorso delle cure e dell'assistenza che viene erogata ai pazienti. È ovvio che questa situazione ha generato scarpone ma più che altro per la notizia in sé e al di là delle motivazioni che ovviamente come saggiamente è stato detto all'inizio ci sono gli ingredienti che stanno indagando e ci diranno poi cosa realmente è accaduto. Mi dispiace che certe situazioni poi si vengano ad affrontare solo quando si verificano dei drammi quando noi oramai da più di dieci anni denunciamo una carenza di personale in ogni realtà e non solo nel caso specifico del Pertini del reparto di ostetricia. In ogni realtà il personale vive questa difficoltà nell'affrontare la quotidianità lavorativa per coprire i turni, per l'aumento costante dei carichi di lavoro per le difficoltà che si incontrano legate a una serie di responsabilità che il personale infermieristico e non solo ha durante il proprio turno di lavoro. Quindi la nostra prima reazione è stata quella di, al di là ripeto del fatto di cronaca, di cercare di capire il perché certe situazioni si verificano e non dovrebbero ovviamente, ma questo avviene purtroppo perché magari in un come il fattispecie dell'episodio legato alla ruvinighe che prevede un passaggio periodico e costante del personale per andare in soccorso della mamma o del bambino stesso, ma questo tante volte magari viene messo in serie di difficoltà il passaggio periodico per i carichi di lavori eccessivi che vive il personale. Segretario, prima di continuare, giusto anche per fare chiarezza perché magari chi ci guarda da casa vuole avere chiare tutte quante le situazioni, anche quelle che magari potremmo definire più ovvie, però io le volevo chiedere, lei ha citato il rooming in, il rooming in è obbligatorio all'interno degli ospedali? Non è obbligatorio, è una linea guida e come linea guida si cerca di far rispettare quella che è l'indicazione della struttura e quindi la possibilità di avere il bambino vicino alla mamma, ma se una mamma rifiuta di avere, rifiuta non che rifiuta il bambino, rifiuta la tipologia di ricovero, c'è la possibilità di ricoverarlo presso il dito. Allora io dico una cosa, innanzitutto sì, specificiamo anche un altro dato, bisogna capire se il bambino effettivamente è morto di soffocamento, questo insomma è da chiarire e ancora da accertare. Detto questo, questo fatto di cronaca, come dicevamo, ha sconvolto un po' a tutti e ha creato dibattiti perché tra le mamme, e quindi mi inserisco anche io, c'è chi è d'accordo con il rooming in e chi dice no, assolutamente no, perché bisogna riprendersi dalle fatiche del parto. Ed è vero pure che ognuna di noi ha una storia a sé, non tutte partoriamo allo stesso modo, non tutte soffriamo allo stesso modo, chi più, chi meno, chi fa un travaglio corto, chi lo fa lungo come la ragazza in questione, che 17 ore di travaglio sono tantissime, quindi era evidentemente estremata e forse aveva bisogno di un aiuto in più probabilmente. Tra l'altro lei sostiene anche di averlo chiesto e purtroppo questo aiuto non le è arrivato, ovviamente secondo quanto dice lei. Ecco, ogni situazione è a sé, va valutata a sé e quindi là dove Stefano Barone, il segretario appunto del sindacato degli infermieri Nursid, dice una cosa vera, serve gente, perché è chiaro. Tra l'altro è una delle cose più importanti, mettere al mondo delle vite, quindi serve assistenza perché ognuna di noi è diversa, quindi probabilmente in quel reparto ne serve ancora di più forse rispetto ad altri, ma in realtà in tutti i reparti, perché poi non c'è un reparto che ha meno esigenze rispetto a un altro, suppongo io. Mauro, vuoi aggiungere qualcosa? Io entro veramente in punta di piedi in un argomento che è molto complesso e che soprattutto riguarda, come hai detto tu, l'essere madri in assoluto, come scelta per quel rooming in che, come ha detto il segretario, è a scelta proprio della mamma. Io ho ascoltato con molta attenzione, lui parla di carenza di personale e non può che essere così perché chi ha avuto esperienza purtroppo anche di questioni molto meno felici, come è quella della nascita di un figlio, sa che comunque la difficoltà di chi opera nel settore è proprio quello, è quello di essere in pochi. Io credo che in questa situazione... Poi ci vuole gentilezza, ci vuole pazienza, proprio da parte ovviamente... Ci vuole gentilezza e pazienza, ma se il carico di lavoro è enorme, va a scapito anche, no? Certo, soprattutto perché magari diventa mamma per la prima volta che non sa, non sa proprio, quindi si impara anche a diventare mamma. Mi ha molto colpito appunto oggi questa riflessione che ho ascoltato in radio di una madre che diceva, ricordatevi sempre, che è nato un bambino ma è nata anche una mamma. Nessuna è nata già sapendo come si diventa mamma. Forse la guida, forse va ripensato questo, va ripensato il dare gli strumenti necessari perché due o tre giorni e poi mandarle a casa, ma in quei due o tre giorni sono i tre giorni più difficili perché proprio inizia una vita nuova, ma inizia anche un rapporto nuovo, quello tra madre e figlia. Per cui lasciarle in quel contesto, a cavarsela da sole, questa signora pare avesse una flebbo, quindi anche i movimenti sono molto, diciamo... Limitati. Limitati. E siamo di fronte a un inizio, una ragazza di 30 anni che è diventata mamma da poche ore. Per cui secondo me certamente va ridiscusso e sono ben felice in questa tragedia che non si sia cercato il colpevole, ma ci si sta chiedendo obiettivamente se questa formula funziona oppure no. Perché qui il colpevole, al di là del fatto che come hai detto tu, potrebbe essere pure una morte dovuta ad altro, ma se fosse confermato il soffogamento dobbiamo interrogarci tutti su qual è l'opportunità o meno di avere questo tipo di relazione immediata tra madre e figlia e senza andare a cercare un colpevole, purtroppo vedrete che la magistratura cercherà di trovare dei colpevoli, forse tecnicamente ci sono, ma moralmente secondo me la colpa non è di nessuno, la colpa è di un sistema che forse ci ha fatto vedere un buco che non sapevamo di avere. No, magari lo sapevamo, però finora non abbiamo mai agito, è d'accordo segretario? Allora, sono d'accordo assolutamente, c'è da ribadire però il fatto che della dell'episodio in sé per sé ovviamente di una nascita di un bambino e come giustamente è stato detto di una nascita di una mamma e quindi di tutte novità che avvengono dal momento che il piccolo è nato o la piccola ovviamente. Il problema è che noi tante volte, e questa è una riflessione che spesso noi facciamo, cerchiamo dei modelli oltreoceano, modelli che magari vengono fatti in altre realtà dove però sono affiancati da quelli che sono, mi ripeto, le risorse. Quindi per garantire a seguito di un parto faticoso come è stato quello della signora e come ce ne sono tantissimi e quindi la possibilità di errore perché è la prima volta o dettate proprio da un'esigenza fisica e quindi dalla stanchezza, c'è necessità che il personale sia costantemente presente nelle prime ore, ma vi garantisco che questo non è possibile nelle nostre realtà e questo non per fare assolutamente terrorismo perché i nostri, fortunatamente i nostri professionisti sono in grado di gestire le situazioni più disparate, però purtroppo è arrivato il dramma. Questo poteva essere evitato? Non lo possiamo sapere fino a quando non ci diranno le motivazioni della morte, però sicuramente una costante maggiore di presenza nelle stanze, tanti piccoli incidenti possono essere evitati. E qui proprio mi allaccio anche a quello che è non solo il problema che si può vivere per una neomamma dentro un reparto di ostetricia, ma per tutti coloro che parcano la soglia di un ospedale che si devono affidare al personale sanitario, a quello medico per le cure, al professionistico per l'assistenza e che spesso, come tutti i giorni purtroppo leggiamo, magari delle problematiche di un pronto soccorso o di un reparto di medicina come un reparto di chirurgia. Spesso purtroppo questo è legato esclusivamente a delle mancate risposte, a una tempistica che si allunga a causa dei carichi di lavoro e questo può avvenire solo con una risoluzione. Maggiori assunzioni, maggior personale che sta dentro le corsie e maggior personale che può rispondere alle esigenze e all'assistenza dei malati. Ma perché c'è tutta questa carenza di personale, segretario? Soprattutto voi avete segnalato il problema e non vi hanno, diciamo così, ascoltato perché pensavano che il problema non sussistesse. Perché lei lo ha detto in apertura di trasmissione? Sono dieci anni che noi sottolineiamo questa questione. Noi purtroppo, soprattutto nel nostro territorio, abbiamo subito un blocco del turnove per circa dieci anni e qualche anno prima, nel 2018, dell'avvento del Covid si è avuta la possibilità di assumere, ma molto a rilento. Basti pensare che l'unica gradatoria in essere fino a pochi mesi fa era di un concorso che avevamo al Sant'Andrea, dove sono entrati circa 7 mila colleghi in questi due anni. 7 mila colleghi che hanno permesso sicuramente di implementare le forze, le risorse, ma non sono stati a sufficienza per colmare quel gap che si era formato nel tempo e che doveva andare a coprire anche coloro che erano in procinto di andare in pensione e che sono andati in pensione. Non a caso le aperture dei reparti Covid sono state fatte con le risorse che prima erano in un altro reparto, non sono stati aperti nuovi reparti con nuovo personale, erano gli stessi colleghi che da un reparto passavano a un altro e questo è significativo per far capire come la coperta è corta, come costantemente purtroppo il personale vive questo problema. Mauro, secondo te poi naturalmente vedendo la situazione come ci ha descritto il segretario Barone, una mano potrebbe essere data dal fatto che alcune situazioni possono essere rese più obbligatorie, come precedentemente abbiamo detto si parlava del rooming in, io parto da lì per dire che c'è una possibilità secondo te che queste problematiche queste tragedie possano anche in futuro essere evitate con l'obbligatorietà di alcune situazioni in merito. Io credo che quello che ha detto il segretario è veramente, è una fase su cui riflettere, questa adesso è importante, qui si parla di dieci anni di continua emergenza, c'è stata l'emergenza Covid ma loro come numero e come disponibilità erano già in emergenza, bene, non si può pensare di gestire... E hanno affrontato un'emergenza, diciamo... Già in emergenza. In maniera... La questione è proprio questa, cioè secondo me dobbiamo sederci a un tavolo e renderci conto che la sanità è un costo ed è un valore importante per questo paese, per cui bisogna restituire un numero adeguato di personale che sia medico o che non sia medico. Ho letto ultimamente che c'è un problema per esempio nella nostra regione di medici di base, cioè si è creata una situazione, si è voluto fare un imbuto ma poi ci siamo resi conto che la sanità e comunque la disponibilità dei posti è diventata minore, è diventato minore il rapporto tra numero di operatori e numero di pazienti, ebbene qui bisogna prendere in mano la situazione e togliere questi lavoratori dall'emergenza perché nessuno deve lavorare in emergenza. L'emergenza è quando c'è il Covid, la pandemia, il terremoto, quella può essere un'emergenza. Non si può vivere in emergenza, altrimenti poi l'errore comincia a essere più probabile e se sbaglia un impiegato non è un problema così grave, si sbaglierà un documento, ma se si sbaglia l'operatore scolastico e l'operatore sanitario sono due errori che poi diventano letali. Segretario, ho una piccola curiosità, lei dopo la tragedia ha avuto modo anche di poter eventualmente anche contattare la struttura o proprio gli infermieri che erano di turno quella notte, ha avuto modo di poter sentire qualcuno? Ma attraverso i miei referenti all'interno della Asla Roma 2 so che i colleghi si sono confrontati. Al di là di questo c'è un forte dispiacere per quello che è avvenuto. Io personalmente no, però i ragazzi che rappresentano il sindacato nell'azienda sì. Eh sì, anche perché ci sono testimonianze, ovviamente parlo della mamma che diceva che lei aveva chiesto aiuto e l'aiuto non l'aveva ricevuta. È stata ascoltata. Eh, Mauro prima sottolineava anche la testimonianza della vicina di letto della mamma che aveva visto che si era addormentata, provava a chiamarla ma neanche le rispondeva per il sonno profondo insomma in cui stava, ovviamente dettato dalla stanchezza del parto. Lei pensa che può succedere, anche perché la ragazza ha detto di essere stata trattata male, insomma che l'infermiere o l'infermiera insomma di turno così gli ha risposto male. Pensa che qualcosa può accadere ai suoi colleghi? Ma ovviamente le responsabilità di ognuno verranno fuori, quindi laddove ci siano delle negligenze i colleghi diciamo subitranno i dovuti provvedimenti. Ovviamente che se tutto questo viene certificato. Però io ribadisco che il problema grande è un altro, insomma di spostare l'attenzione sul vero problema, cioè la carenza di personale. Sì perché implica una serie di conseguenze che poi vanno a mettere in difficoltà il servizio, l'erogazione di un servizio. Quindi quando noi vediamo magari del personale che è... Esausto, stanco, esaurito. Esausto, sponde in maniera approssimativa. Al di là diciamo del soggetto singolo, io parlo per la categoria in generale, spesso è figlio di un disagio lavorativo che si vive oramai da troppo tempo. E poi questo paradossalmente avviene anche per i medici, no? Che fanno turni estenuanti. I pronti soccorso, le condizioni, anche i rischi a volte che affrontano. Assolutamente sì, avviene anche per la figura medica, ma purtroppo noi abbiamo un rapporto molto più stretto col paziente. Siamo i primi ad incontrarlo quando varca la soglia di un pronto soccorso, siamo quelli che comunque costantemente stanno dentro il reparto. Il rapporto con il medico è un rapporto diverso, fondamentale, indispensabile, necessario ovviamente, però è un rapporto diverso. Noi purtroppo a seguito di tutte queste situazioni che si creano costantemente abbiamo una pressione legata alle responsabilità che abbiamo, legata a una carenza d'organico che ci spinge purtroppo a fare un'assistenza più di quantità che di qualità, perché purtroppo cerchiamo di soddisfare le esigenze di tutti i pazienti, ma allora non sempre riusciamo a derogare tutto quello che dobbiamo fare in maniera ottimale più che altro, non perché non venga fatto. E spesso purtroppo possono succedere queste situazioni. Situazioni che comportano poi tante volte le denunce che arrivano nei confronti dei sanitari e quindi anche un atteggiamento difensivistico da parte del dipendente che si limita magari a perdere tempo in una relazione, in una risposta magari molto più cordiale rispetto a quella più franca, sempre nel rispetto dell'educazione. Questo purtroppo è la situazione che noi abbiamo e questa qui è la situazione che spesso causa le aggressioni nei confronti anche del personale sanitario, conseguenza di un clima che purtroppo è arrivato all'esasperazione totale che purtroppo chi viene in ospedale non riceve le risposte in tempi che lui ritiene utili, non ha l'assistenza che si spera di dare e si alimentano i climi e purtroppo poi sfocia nell'aggressione. Quindi sommando tutte queste situazioni il personale di certo non vive serenamente l'attività lavorativa. Anche perché il personale poi è poco come ha ribadito lei e questo dunque vi porta a chiederle per il futuro anche della categoria rischio secondo lei dopo la vicenda è quello di esasperare ancora un clima che vede molto spesso anche i reparti sanitari che siano medici o infermieri, protagonisti anche di scene di violenza e quindi aggiungere uno step successivo. C'è questo rischio secondo lei? Ma io mi auguri no, non c'è un rischio perché non ci sarà nessun senso di rivalza da parte del personale. Il personale continuerà ad erogare in maniera professionale l'assistenza e le cure nei confronti dei pazienti. Il discorso che prima faceva in studio il giornalista Valentini è che non deve essere catalogata come una spesa quella sanitaria ma come un investimento. Certo, certo. Se cambia l'idea di investire nella sanità e sicuramente le ultime notizie non ci confortano come il definizionamento della sanità purtroppo che in previsione di quelli che sono le criticità ci lasciano un po' perplessi nel senso che se non si decide ancora di investire nella sanità purtroppo questi saranno episodi che dovremmo affrontare costantemente. Anche perché quando hai un reparto sanitario, una struttura sanitaria d'eccellenza, un fiore all'occhiello, enneggiava tutto il paese. Cioè c'è poco da fare, c'è poco da fare. È uno specchio della realtà. Mauro a tal proposito, è successo purtroppo alla tragedia e c'è stata anche non tanto l'esercito quanto molte testimonianze anche di altre mamme famose nonne che hanno detto anche loro che se volentieri... Cioè intervieni per forza, tutti ci siamo fatti questa domanda perché ma a chi di noi non è successo di addormentarsi mentre allattava? Il punto è questo. Quindi tu ti aspettavi queste dichiarazioni in merito così anche in master che sono state anche parecchie? Ripeto, è proprio una cosa che va a toccare veramente l'intimo di ogni donna. Per come la vedo io mi è sembrato, in tutte quelle che ho ascoltato, che sono delle reazioni delle reazioni però semplicemente rispetto al rooming in, non rispetto all'assistenza. E poi è chiaro che l'assistenza è fatta anche di rapporti, è fatta anche di un atteggiamento purtroppo quantitativo, come diceva il segretario, piuttosto che qualitativo. Tutti noi quando entriamo in un ospedale pensiamo che il problema nostro sia il problema più grande di tutti e ci aspettiamo un'accoglienza che purtroppo non può essere data a tutti allo stesso modo. Se poi noi riduciamo il numero di persone per cui vent'anni fa c'erano il doppio delle persone che c'erano adesso in un reparto di neonatologia... Però forse c'erano anche il doppio delle nascite vent'anni fa. Sì, questo è un altro dato. Però un incidente come questo lo puoi cercare di ovviare, non puoi escluderlo completamente. Certo, se c'è il personale che può dedicarsi. E poi però facciamo anche una discussione su quello che riguarda il Rooming In perché la riflessione che ho letto anche da un collega molto più importante di me sta in questo, cioè non vorrei che fosse nascosto dietro alla modernità del Rooming In una volontà anche di risparmiare su tutto un settore che invece potrebbe essere molto più costoso. per cui non vorrei che si delegasse alla paziente, perché in quel momento, ricordiamoci, non è una mamma, è una mamma, ma è una paziente, perché ha appena subito un parto. Bene, non vorrei che si delegasse alla paziente quello che invece dovrebbe essere delegato alla struttura sanitaria. Sì, questo lo diceva Gremellini nel suo caffè quotidiano sul Corriere della Sera. Segretario, è d'accordo? Cioè è un sistema che fa risparmiare e per questo viene utilizzato oppure viene utilizzato perché porta dei benefici al neonato? Guardi, mi permetto di srammatizzare, non sono l'unico che, non siamo gli unici ad essere maliziosi. Nel senso, il risparmio ovviamente era stata una delle cose che noi abbiamo subito evidenziato, cioè... Ma come aspetto positivo? No, come aspetto negativo. Negativo, ok. Come ho detto prima, non a caso, i reparti Covid sono stati aperti con le stesse risorse, non sono stati aperti i reparti con nuove risorse. Questo che cosa ha comportato? Che una medicina o una specialistica ha visto ridimensionare i suoi posti letto per recuperare del personale che doveva andare a finire in un altro reparto. Questo, a sua volta, ha ridotto le attività, si sono allungati i tempi di attesa per tutti coloro che si dovevano ricoverare con una serie di conseguenze. Ritornando al discorso del ruining, il personale che prima aveva la gestione, diciamo, del nido viene recuperato magari per gestire il reparto d'ostetricia. Questo è grave. O magari da altre parti, perché non avendo più i bambini dentro al nido, ovviamente quel personale dovrà andare da qualche altra parte. e le recupero, ma non migliorando le attività o un servizio, perché, come ho già sottolineato, noi importiamo dei modelli che però prendiamo solo una parte. Se è previsto un passaggio costante del personale durante il ricovero della mamma e del bambino, ci deve essere una persona che ha la possibilità di farlo, anche più di una, se mi permette. Anche più di una, certo, perché poi alla fine non può essere, io vi dico anche altro, nel senso, noi abbiamo finanziato una ricerca che è l'RN Forecast, fatta dall'Università di Genova, che ha proprio lavorato sul rapporto infermieri-pazienti. Questo rapporto, questo studio, ha evidenziato che un rapporto ideale sarebbe di un infermiere con sei pazienti e questo permetterebbe l'abbattimento del 20% delle mortalità. Ah, che è tanto. La realtà che noi viviamo nelle strutture pubbliche ha un rapporto di 1 a 10, 1 a 12, per arrivare a 1 a 18, se non 1 a 20, nella salita privata. Allora, possiamo fare i studi che vogliamo, possiamo fare i modelli che vogliamo, che riteniamo più utili, ci possiamo aggiornare quanto vogliamo, ma poi alla fine ritorniamo al fatto che dietro qualsiasi attività c'è una persona e quindi c'è bisogno di risorso mare. C'è bisogno di professionisti per garantire che quel modello possa essere applicato. Grazie, segretario. Ringraziamo il segretario Stefano Barone del sindacato Nursid di Roma. Grazie, buon lavoro. Grazie, segretario. Grazie a voi, buon lavoro. Mauro, tu rimani con noi, noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità e poi torniamo subito con un nuovo argomento. Grazie a voi.